niente di assuntino andiamo avanti stiamo cercando un modo di uscire comunque dal mondo virtuale e magari di trovare anche reina ma stessa si appiccica al muro e fa un urlo disperato siamo a rischio morte se non erro c'è una bomba tipo nella realtà ragazzi sentiamo una voce familiare da provenire da dietro di noi sorpresi ci giriamo eccola qua toh neanche a farlo apposta erina san non è possibile icirei tutti corriamo verso di lei non pensavo che l'avremmo mai più rivista a chi è icirei nazi san si ferma cosa tu non sei icirei siamo tutti perplessi sei ragazza sì ne è passato di tempo sono felice di avervi potuto rincontrare sentire quel nome la fa sorridere perché ragazza è qui di nuovo è semplice la personalità virtuale di reina è creata a partire da dati sulla personalità e dati sui ricordi ma i dati che riguardavano la memoria di reina sono scomparsi quando lei li ha sovrascritti con quelli di yuno per proteggerla ed è per questo che abbiamo solamente la ragazza A che può esistere anche con solo i dati della personalità oh ah sì ragazza A è stata creata a partire dai dati della personalità di icirei il casano annuisce però è pur sempre un mistero il perché e il come sia apparsa qui icirei e abbassa lo sguardo gli altri sono delusi io condivido lo stesso sentimento pensavamo di aver sistemato tutto quando abbiamo detto il nostro addio a reina san durante il viaggio però vedere la prova schiacciante del fatto che lei se ne sia veramente andata fa male al cuore ragazza A ci guarda con un'espressione seria per favore fidatevi di me da questa parte dopo aver detto questa cosa piazza la sua mano sul muro di cafe exit un momento più tardi una cosa sorprendente succede una cosa sorprendente passa attraverso il muro come se non fosse nemmeno lì incapaci di capire quello che avemmo appena visto ce ne stiamo lì scioccati cosa ragazza A era un fantasma intangibile il casano è molto sorpreso e io non posso biasimarlo intendo non potevamo fare nulla riguardo a questo edificio eppure lei è entrata così facilmente ehi possiamo veramente entrare così intendo nessuna cosa di quelle che abbiamo fatto ha funzionato finora direi che non abbiamo altra scelta se non quella di crederle ci ha detto di fidarci di lei anche se non ha i suoi ricordi io crederò in ci lei no, in ragazza A Atsumi-san segue l'esempio di ragazza A e piazza la sua mano sul muro un momento più tardi lo attraversa come se non fosse mai nemmeno esistito no, anche Atsumi-san è passata dal muro la prossima sono io, la prossima sono io eccitata Tatiana tocca velocemente il muro ed entra wow incredibile, Tanya vengo anch'io dentro e poi è il momento di Yuno-san allora entrerò anche io Asano-san e Ruka-san cosa sta succedendo qua? Ori-san tutti passano attraverso il muro e scompaiono dentro Cafe Exit io sono l'ultimo piazzo la mia mano sul muro e oh oh Alla prossima. Sì. 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 Sì Ma l'unico di responsabile è stato portato in un'e-Langue in un'e-Langue. E' anche quella che fosse sembra di essere una cosa che sono. Non è vero, non è vero. Ma che non si tratta di un'e-Langue in un'e-Langue in un'e-Langue in un'esitza? Sì. Sì, non è vero. ... Noo ah! Ma se fosse.... è stato rispettato in Egitto? Noi ha! Mi danno per tornare a tutti i ragazzi? Sono worsissimi. Non lo saprei... N Sieita, non sono davvero lato che stesso. Sì, è un attimo. E questo è un auzore. È proprio il γredo di una n persona che riuscita. È un attimo. È un attimo. Chegono, ho lasciato? Non, sì. Mi sembra un attimo che non è mai stato. Sì, è stato un po' di lei. Sassato現実 no世界に帰りましょう 現実世界にカムバックだよ 早く帰るのだ あと帰ったらガジガジくを食べるのだ せっかく少女Aに助けてもらったんだもの もう1秒だって時間を無駄にはできないわ Sì, sì. Alla prossima, l'Owari. Ah, andiamo. Alla prossima, ci siamo tornati con il tempo. Ci sono ancora 5 minuti che non c'erano. Sì, non è vero, non è vero, non è vero. Grazie a tutti 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 a un'altra cosa stai dicendo a un'altra cosa che c'è l'arri che c'è l'arri non c'è l'arri Alla prossima. Alla prossima.